mi mi lo si aspetta cosa vorrò mai dire aiuto oh no aiuto aiuto che twist che colpo di scena aiuto mamma salve a tutti benvenuti in questa nuovissima puntata di merrino pasta siamo qua io ciccio merrino e mio fratello marco merrino e oggi ti giuro non so come hai fatto venire la tosse oggi giocheremo a un gioco nuovo si chiamerà mental hospital mamma mia un ospedale psicologico oggi freud vuole farci vedere questo nuovo gioco eeeh io non ho paura tipo io ne ho paura delle bratte io le bratte me le mangio ME LE MANGIO LET'S PLAY ok ti porti il cessato non so premi F per la luce lampo non... questa è una torcia non una lampada ma per stupido sono eh? ma che ampi ti porti il cazzo ti porti il cazzo ma che cazzo come hai muo di spara? ah le hai preso? oh porca puttata ok come si spara come una sinistra ok let's see ma non controgli un cazzo che 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 c'è? e se trovi con una boccetta? di cosa? una boccetta di che? vabbè le vattene via le boccette di munizioni ok da quando vengono le boccette di munizioni? le boccette ma monca puttata le boccette della salute non delle munizioni ecco non c'è la salute non c'è ma che succede intanto? i fantasmi ci stanno roppendo non controlli i cosi dove è logico che c'è qualcosa ma controlli i conti di interazione della mia che non si muove nemmeno è sicuramente usato tipo non è che con questo shift questo babboidio corre no è uno di quei giochi che palle ehi a baby oh no ma è successo? vai tu no 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 guarda il baby guarda fammi capire un attimo una cosa non posso girarmi dietro ma cambia la stanza ma cambia la stanza mi sto impressionando minchia ma come io non dormo dormo a occhi aperti io pure male guarda no 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 e non peli che mi fa di siedersi in quel cello come io sto tratto le gambe così tene l'architetto di questa stanza è un po' strambo guardate un po' io ah, luce spegne che senso ha tirare lì? la pistola è più lunga del mondo aprite! eeeh e senti un po' le tante avevo detto a me senti un po' le tante io senti un po' le tante c'è scritto madonna che spirito d'osservazione nooo cos'è? non dimmi che questa stanza è buio no si ma come è questa stanza no è uno che d'aiuto io hai da chi hai da chi tranquillo aiuto io ma davvero non si può correre ci sono forse non si può correre no faccio tutto accolto cioè se contro un posto sei fottuto è pariato la pistola ma davvero compensa e munizione da quanto ne prese le altre scuse? ma quanto ne prese le altre? ma che cazzo? uaaaa eeeh atterrito sto e io sono attraente hai detto ma ciccio si è detto Kuala Lumpur ma poi si vede qua dentro non si vede nulla cioè che ne dici di battere da questa porta perché i passi di sto bc sono potentissimi ma fermo help me l'ho fatto identico forse è qui è zallo è uno del peccato è uno del peccato è uno del peccato nooo ma che povera un falce su di barbecue è ancora vivo? l'ho già ancora non è la donna non posso che stupida caduta non vuoi che il rumore ridicolo? prendi quella bocce perché mettono gli oggetti? ma io l'antigeno mi danno fastidio ste cose Allora se ci c'è Saga perchè c'è sta musica? Cioè non posso usci- Questo ospital è un po' mentale Vero? You are already dead AAAAAAAH Comunque lo sai che in inglese è mental Si dice anche tipo Per dire a uno sei pazzo Oh you are mental Vero, ah no sono pazzo Fini al seguente su giochi sono pazzo Close E come fa a sapere che per quella c'è la chiave Ma questa è solo chiusa Non vedi che un po' mentale è un qualalucco Eh oltre che un down E' un qualalucco Allora ho bisogno di munizioni di pi- AAAAAH AAAAAH Sì, che cosa ci fa il malmo tipo Che cazzo? Ah vuoi torna indietro allora Eh torno indietro allora Forse ci c'ho... Se guardi sopra che magari puoi vestitato da sopra C- ah certo, i TUNIDOONS Dove? Hai preso? Ho preso? Si Con questo sai cosa ho detto No Eh l'UNIDOONS Sì, non sembra che non si... Tu sei un mentale, sono un mentale Ma non puoi andare indietro? E poi andiamo avanti, noi andiamo indietro, mi chiapprano, non è quello che ti fanno così Ma adesso se sta male fa l'ospedale, come fa? Lui è all'ospedale E poi è già morto C'è non è quella? Eh, devo andare indietro, non hai capito? Non era così lontano Ciccio, secondo me l'hai già superata No Questa qua Io lo sapevo Bastardi, io l'ho fatto tutta questa strada per... Hai sparato al muro? Si sbaglio Ciccio, vai di che? Per caricare R? Eh, questa Ciccio, di ragazzare Questa qui Io lo sapevo Nooo Eh, non puoi entrare No Eh, te la chiama non serve a un cazzo in questo gioco, mi dispiace Ah, non serve a un cazzo Questo ospedale è un po' mentale Io mi sto mentalando il cazzo Io, io, io Poi questo lento come una lumaga Che... perché? Ok Ora, close Vai Perché le canti ancora il cospero? Uuuuuh Cos'è? C'è per il cazzo Ti do una mano io? Faccio e zippati cinque, bravo Dove sei? Mostra! Mostrati Mostrati, mostro Mostrati E scendiamo le sca... Un cazzo Chi sarà? Zitto Zitto Koala Koala l'ulto Munizioni? Un cesso C'è il tuo cesso, sembra E la mattina in mezzo Piccio ma guarda... Perché questa recessi fa buono? Secondo me succede di tutto e tu non guardi Ma dovete guardare? Ma è la mattana Zitto in una stanza e guardati intorno Ok No, no Nora, no Nora Ora entri in questo e ti guardi a 360 gradi Ok Cioè è chiusa Aperta, ecco Guardati intorno Ok Ok, ora puoi procedere Bravo Guarda fuori dal l ali Wow, come faccio? Ma che cazzo faccio? Eh! Sto gioco è malato Come faccio? Ma come cazzo faccio? Sto gioco è COALA Poi perchè sti qua si fanno l'eko? Potututututututu Potutututututu Patò, poteto Non era aperta questa porta Qua già ci sei entrato Non era così, Marco Non era così Ah, è uscito dalle scale Se questo è la voglia di un Di un bravo Di un quara lupo E anche di un quara lupo Siamo in the basement Base ment Una base mentale Ma sta doccia così lumina E osserva Comunque figa la cosa dell'acqua Ehi, a macchinari Guarda te, dietro l'altro Ok Marco Tu vai in tour Cosa c'è in quel muro? Guarda nel muro Marco, ci sono buchi Che devi fare con i buchi? Ma a me non c'era una chiave del mondo La chiave professore La chiave professore Chi cazzo? La chiave maestro Zitto marrone e viola Troppo lungo sto Coritoio, non va Ora, se cosa succede? Mi spuntro davanti Guardando questo Ti giri e se dovrei prima Ma non si Lo fatti Ok Andiamo Il cazzo Ti chiedo a sguerire delle munizioni Non posso sparare Oh, wow, wow, wow Eh, eh, oh, what? No 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 Cioè io ho perso perché ho delle munizioni E perché non ho visto le porte Spirito di osservazione No Allora, io ho preso tre chiavi in questo Anzi, due ne ho prese Nella prima stanza Li mattoncini Li lego c'erano L'altro non serviva un cazzo Dove devo guardare la gran fissa di tua mamma? Beh, ci riproveremo nel prossimo episodio Magari Ciri, ciri, eh Ci vediamo dopo Bastardi Pappaleale Pappaleale